Essere in un luogo che ci racconta un po' anche quello che vorremmo fare... La Fano Marinara con il progetto dell'ecomuseo diffuso del mare è stata al centro del primo appuntamento dedicato agli stati generali del turismo, l'evento che segna il completamento del piano strategico per il turismo 2020-2024. Relatori del primo incontro, svoltosi allo Zeppelin Design a Rosciano di Fano, il sindaco Seri, l'assessore Lucarelli, Luca Ruzza, architetto di Open Lab Company e docente all'Università La Sapienza, Francesco De Melis, antropologo, regista e compositore nonché docente universitario e Leandro Ventura, direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. È un progetto di qualificazione del porto di Fano con interventi che saranno diffusi in un'area piuttosto basta che va dallo scimitar fino al ponte che porta Gugul, dove la tradizione e le tradizioni della marineria fanese troveranno dimora, una dimora contemporanea, digitale, creeremo delle situazioni e delle condizioni di forte impatto e di inclusività transgenerazionale all'interno di forme che vedrete più avanti perché le proietteremo qui nel grande marito. Il secondo appuntamento invece si è svolto oggi pomeriggio ed è stato incentrato sulla Fano gastronomica, sulla valorizzazione delle produzioni ittiche locali e sulla filiera corta. La giornata principale poi sarà quella di domani, venerdì 26 gennaio. Il programma prevede diversi confronti sulla Fano città di Vitruvio, sull'importanza di un'offerta territoriale e sull'identità competitiva per affrontare le nuove sfide del futuro. Seguiranno un focus sugli eventi e sulle manifestazioni come investimento per le imprese e la città e la consegna delle targhe di ringraziamento. L'incontro, previsto per le ore 17, verrà trasmesso in diretta su Fano TV.